Ciao a tutti ragazzi e ragazze, signore e signori, banane e banane Eccoci qua ritornati nella nostra serie di Minecraft Hardcore Nel nostro secondo episodio Stranamente nel primo episodio non siamo morti come i carciofini appena nati E spereremo neanche in questo episodio Comunque ragazzi, in questo episodio avevo deciso di andare un pochettino in miniera Quindi ragazzi, dobbiamo trovare una caverna Ma prima facciamo una leggera strage perché qua vedo un botto di animali Mentre facevo delle strage ho trovato una Ragazzi potremmo perdere il nostro mondo Hardcore per colpa di lui Ragazzi potremmo perdere il nostro mondo Hardcore per colpa sua Paura Paura Oh no No Ok 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 No 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 ragazzi le caverne sono pericolosissime Super pericolosissime Io neanche full diamante ci vado nel caverne Perché ragà Ho scoperto che se vai Se ti fai uccidere da uno zombie che sta bruciando Lo zombie ti dà fuoco Guarda Guardate sta roba ragà Guardate Guardate Ma non male che il fuoco dura di meno Comunque ragazzi stavo dicendo che l'ho trovato un tempio del deserto con un bel villaggio Quindi andrei subito a vedere Mi prendo la mia fornace estremamente veloce A proposito di lingotto raga facciamoci subito sto scudo Ok Comunque stavo dicendo che andiamo a quel bel villaggio a vedere che cosa ci starà mai in quel delizioso tempio Protezione 4 Sì Perfetto per l'hardcore E impollinamento 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 3 Ok Oh 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 3 diamanti Mamma mia Fortuna del male 1 Vabbè non gli serve E schifo Devo dire che è stato abbastanza buono In particolare per i diamanti e per protezione 4 E ora saliamo sopra Oh no Si sta facendo notte Dobbiamo salire sopra il più possibile e andare subito a dormire Altrimenti poi Come potrei dire Rischieremo di Come potrei dire Perdere Questo Mondo Hardcore Per fortuna che teniamo il villaggio a 5 passi da casa nostra Ci sono pure dei cetrioli di mare Mamma mia Io non li prendo perché mi aumentano solo lo spazio alimentario Buonanotte Comunque ragazzi Oltre ad andare in miniera Cosa che io non farò mai nella vita Fin quando non avrò Full armatura Diamante Neterite ferro Non toccherò una caverna mai nella vita In questo mondo hardcore Volevo prendermi un po' Volevo prendermi un po' i villager Perché almeno con i villager Ci possiamo fare un botto di cose utili Come libri con riparazione O come anche Libri con protezione Uno ce l'abbiamo già E poi anche La cosa più importante Sono le armature in diamante Queste qua ci saranno stramega utili Quando andremo nel neter E la vedo anche il mio bel villaggio Quindi andiamo a portare i nostri villager Ragazzi mi sono appena accorto una cosa Che non abbiamo i guinzagli Quindi i villager non li possiamo portare Abbiamo bisogno di un mercante Mercante non ce l'abbiamo Come si possono fare i guinzagli con gli slime Noi li andiamo a uccidere Col cacchio Quindi non portiamo i villager Dato che non possiamo Né andare in miniera Né portare i villager Né fare niente Allora ampliamo la nostra casa E ci mettiamo anche il pavimento Però per fare il pavimento Ci serve la cobblestone E noi cobblestone non ce l'abbiamo Quindi dobbiamo andare in miniera Ma in miniera non ci possiamo andare Quindi andiamo a prendermi la Miniera non ci possiamo andare Quindi andiamo a prendermi la Allora io direi Di farmi coraggio E andare In quella caverna là Forse non farò più ritorno in questo mondo E non voglio perderlo al secondo episodio Ok ragazzi Entriamo Scaviamo il ferro e usciamo Fatemi fare un po' di torce No io di quel creeper c'ho paura No 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 Ok è morto Allora ti stavo dicendo Facciamoci Facciamoci le torce Con questo e questo E prepariamoci Ad andare In miniera Lo scudo Lo chiamavano Gesù Cristo Questo zombie Accidiamolo Ragazzi abbiamo bisogno di ferro Il ferro ci serve Noi non ce l'abbiamo Non ce l'abbiamo il ferro Qua non c'è niente Di ferro Quindi andiamo verso di qua Ma la chiamavano la caverna di creeper Dietro a quel creeper vedo il ferro Allora 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 No sento uno zombie Madonna Impanata E fritta No Ok ok Lo scudo lo chiamavano Gesù Cristo Dicevo Copper Mangolo possiamo Ah no Aspetta Lo usciamo io Copper lo possiamo Prendere E là C'è il ferro Ma dovevo Sento un botto di zombie Un botto Ne sento Tengo paura Mamma Io non capisco Ancora da dove vengono Tutti quanti Sti cacchio Di mob Io non lo so Comunque teniamo 6 di ferro Questa è la cosa buona 6 di ferro è troppo poco però Questa è la cosa cattiva Cioè raga A sto punto Rimaniamo dentro casa Non usciamo neanche per Prendere il legno E ci siamo là insieme ai villager Questa qua è la cosa Che dobbiamo fare Vabbè Dato che là sotto Io c'ho paura ad andarci Perché là ci morirò di sicuro E perderò questo mondo Facciamo la cobblestone Per continuare la mia casa Ma raga Ma perché io mi devo prendere Gli infarti Ogni volta che si 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 rompe Qualsiasi Attrezzo Cioè il suono Che fa Mi fa prendere Uno di quegli infarti Che neanche Five Nights at Freddy's Comunque C'era una volta Una saggia erba Che disse Io da grande No Stavo dicendo C'era una volta Una saggia erba Che disse Io da grande Vorrò essere un'alga E quindi si mise a fluttuare Sopra l'acqua Per fare il suo lavoro Ma poi Venne un tizio Di nome capitano pazzo E la sfasciò E quell'erba Non potò più raggiungere Il suo son Coniglio Accidi Accidi coniglio Accidi coniglio No coniglio Non accidiamo Perché sennò Perdita di tempo Comunque ragazzi Siamo fatti Una stacca e tredici Di cobblestone Lo so È pochissimo Però Non ci possiamo stare Molto tempo in miniere Che sennò moriamo Io ho solo paura Di morire In hardcore E mettiamo a posto La nostra roba Siamo a Cinque diamanti Tutti quanti Trovati Nelle ceste Nelle ceste Ragazzi Giusto per farvi capire Quando siamo fortunati E cominciamo a fare Il pavimento Si è fatto pure notte Meno male che io tengo Il mio amico letto Che mi salva Da tutti i mob Che sponeranno Comunque ragazzi Abbiamo Scavato il buco Per fare il pavimento E noi il pavimento Lo facciamo in cobblestone Lo so Poi lo migliorerò Perché è davvero Uno stile Molto classico Tutto banale Tutto banale Tutto banale Mamma mia Tutto banale Ma poi questa casa La renderò Una casa bellissima Forse Ok Abbiamo fatto il pavimento Fammi scavare Sto blocco Ok E mo Dobbiamo farla a porta Teniamo moltissimo legno Moltissimo Vabbè Facciamo No aspetta Ma cosa la possiamo fare La porta Allora Facciamo così 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 E così Oh E ci siamo fatti La porta Ora noi mettiamo Porta qua Mettiamo tutto il resto A posto E facciamo pure Fornace Ecco qua Fornace Dove noi mette fornace Noi Noi mette fornace Cioè raga Devo dire che Sta casa è troppo piccola Non so se Non so che cosa Non so Non so Oggi non so parlare Ragazzi Comunque stavo dicendo Che io non so Che cosa metterci Cioè io non so Neanche dove allargarla Allargarla Allarghiamo Di così L'allarghiamo Di così Oppure allargiamo Di entrambi i lati Io avevo pensato Di così Di più E di così Un pochettino Però di meno Di così Ogni volta che ho detto Di così Vi merito Un euro Andiamo a cidre Sto coniglio E andiamo a prenderci Un bellissimo fiore giallo Per tingere il mio letto Che poi raga Quando mi farò silketaccio Vorrò prendermi Quell'alveare Voglio farmi le apine Giuseppine Voglio farmi le apine Voglio farmi le apine Giuseppine Voglio farmi le apine Giuseppine Voglio farmi le apine Ok Perché non si può tingere Ragazzi ho appena letto Che su minecraft E java Il letto si può tingere Solo se È di È bianco Questo si chiama Razzismo Nazionalismo Io vado un attimo Dai miei amici Villager No Ho detto male A Villager Comunque voglio andare Dai miei villager Perché voglio tenerli Tutti quanti In un punto sicuro Almeno due Così almeno Quando li dovrò Prendere Non c'è un problema Stanno tutti là Per libertà Ragazzi Se ve lo state chiedendo Io sto calcolando Il numero di tempo Che ci serve per Oh Ragazzi Mi è venuta un'idea Mi è venuta un'idea Un'idea Probabilmente buona Vedete questi due laghi Io li posso collegare Per far passare i villager Dalla barca Da uno all'altro E poi i villager Li metto da qualche parte Là Ok ragazzi Facciamolo Scaviamo tutta Sta sabbia Per far passare Un po' di villager Però ragazzi Ovviamente A noi ci servirebbe Più di una pala Quindi Andiamo a farcene un'altra Ok Ora possiamo fare La nostra Il nostro Il nostro Il nostro canale Ecco Non mi veniva la parola Eh Mo' Scemo Scemo Sgrammaticato Scemo Scemo Sgrammaticato Cominciamo a scavare Ci vorrà un bel po' di tempo Però il risultato Sarà bello Perfetto Abbiamo fatto questo canale Che mi sta triggerando Un botto Perché qua ci sta Quest'acqua Che non c'è E io ovviamente Non tengo un secchio Ragazzi Allora abbiamo capito Il Nokia Che non si rompe Abbiamo capito La regina Elisabetta Che non muore Però mi spiegate questo Comunque Stavamo dicendo Io vado A spaccarmi Giusto questo albero Per farmi la barca E per portare I miei Amici Villager Alla mia base Devo dire che Stollago Si è rivelato Molto utile Pure vicino A casa mia Mamma mia Ciao Villager Avete voglia Di una gita Tu Hai voglia Di una gita In barca Oh Oh In acqua In acqua Oh Vai 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 qua dentro Bravo Prendete esempio Da questo villager Molto bravo Intelligente Ecco qua Facile facile E lo portiamo qua Ora corriamo a casa nostra A dormire Prima che vengono gli zombie Questo villager Fa la fine Del mio mondo Che muoio Villager Dove siete Dove siete Ciao Ciao No Tu non vuoi venire Chi vuole venire Villager Dobbiamo aspettare che sale un villager qua sopra Oh eccolo 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 Non scoprire Non scoprire Non scoprire Questa qua si chiama la definizione di rabbia ragazzi Oh 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 Villager Villager Vieni qua Vieni qua Ok Perché non ci lancia la porca Andicappato Oh Madonna Stavamo dicendo Teniamo un pochettino di villager qua E ora il problema è Il seguente Come facciamo A farli salire qua sopra Dato che quelli se ne andranno tipo A monculi Lo scopriremo Nel prossimo episodio Comunque ragazzi Il video di oggi finisce qua Lo so Sto facendo dei video molto brevi Ma tranquilli Perché la prossima settimana Quindi la prossima domenica Ci sarà un altro video Della serie Hardcore Quindi ragazzi Ricordatevi bene Ogni domenica Farò un video Dell'hardcore E ragazzi ovviamente State domani Cioè state giovedì Perché farò anche Una live Comunque stavo dicendo Il video di oggi finisce qua Mettete like Iscrivetevi Fate tutte quelle cose là E noi ci vediamo Nel prossimo episodio Noi ci vediamo Nel prossimo episodio Ciao Noi ci vediamo 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 Grazie.